Ciao, facciamo due chiacchiere con un Family Friendly. Raccontaci chi sei e dove operi a Milano. Ciao, sono Sabina e sono una mamma volontaria di Mami, che è un'associazione senza scopo di lucro a sostegno della genitorialità. Ci troviamo a Lambrate, zona 3. Perché sei Family Friendly? Perché accogliamo nella nostra casa le mamme nel postpartum e le accompagniamo a crescere con i loro bambini. Cosa sogni per Milano? Che sia più Family Friendly. Grazie, ciao.